Grazie! Grazie! Questo è uno spettacolo per cui vale la pena vivere e sacrificarsi, grazie! Questo lo dedico a chi dice che oggi a Firenze è in corso una robetta, sfigati, averne di piazze come la vostra! Portate il saluto di Firenze a chi è rosicare a casa sua, a Rignano! Io vi ringrazio, sarò al fianco di Massimo per restituire i Padova e i Padovani, lo corrego su una cosa, Firenze non è una città comunista, Firenze è abusivamente occupata da qualche bugiardo che manderemo a casa il prima possibile, Firenze non è Matteo Renzi, la Toscana non è Matteo Renzi! E' altra roba! Grazie ai Toscani che sono qua, siamo qua per voi! Io porto la voce del no, non saremo troppo lunghi perché alle 18 alle nostre spalle comincia la messa, noi siamo timorati di Dio, noi amiamo il prossimo nostro come noi stessi, però non amiamo il profugo nostro come noi stessi, come qualche parroco mangia pane a tradimento che parla di accoglienza perché ci guadagna un sacco di soldi. Quindi noi ovviamente prima dell'inizio della sacra funzione ci ritireremo in buon ordine con due riflessioni. Numero uno, ringrazio le migliaia e migliaia di persone presenti in questa piazza che riempiono anche le vie laterali e vedervi da questo palco è stupendo, perché come sempre quando c'è in piazza la Lega questa piazza verrà lasciata più pulita di come l'abbiamo trovata e non ci sarà una sola vetrina imbrattata alla faccia di quegli sfigati dei centri sociali che invece laddove vanno non lasciano ordine e decoro. Sono onorato di portarvi il saluto dei risparmiatori di Banca Etruria e delle banche rovinate dai compagni e io mi domando come gente, come Verdini, Renzi e Boschi che ha rovinato delle banche possa mettere mano alla Costituzione. Vergognatevi e tornate a casa e lasciate che la Costituzione venga toccata da gente con le mani pulite. con le mani pulite. Questo è il no dei milioni di lavoratori rovinati dalla legge Fornero. Andare in pensione dopo aver lavorato per 40 anni è un diritto e non è un privilegio. Il 4 dicembre è un no per mandare a casa chi ha votato la riforma più infame degli ultimi anni. Siamo in piazza Firenze, Firenze in cui un sabato come oggi, sabato 29 giugno del 1929, nasceva Oriana Fallaci che dovrebbe essere studiata sui libri di scuola per come aveva aperto le menti. Firenze in cui nacque Niccolò Machiavelli che nel Principe scrisse un passaggio a cui si sta adeguando il bugiardo patologico, suo indegno conterraneo, perché nel Principe Niccolò Machiavelli, e magari i sindaci lo sanno, scrisse governare significa far credere, far credere, voi sindaci però non vi potete permettere di far credere, perché l'asilo nido deve aprire, perché la strada deve essere a posto e perché la casa di riposo deve accogliere gli anziani. Quindi il governare e far credere lo puoi portare avanti per un mese, per un anno, per due anni, ma il 4 dicembre è l'occasione di mandare a casa il bugiardo patologico che da tre anni sta facendo credere agli italiani di governare nel loro interesse e invece governa nel nome di qualche affarista che in realtà vuole svendere il nostro paese. E soprattutto Firenze diede i Natali a un signore che ci ha lasciato una delle opere d'arti più importanti del mondo, una delle opere d'arti che qualche fenomeno di sinistra, che qualche pseudo insegnante, che qualche pseudo educatore vorrebbe togliere dai banchi delle nostre scuole, perché nel canto 28 dell'inferno un signore un gradino sotto rispetto a Renzi, per carità di Dio, che si chiamava Alighieri di cognome e Dante di nome, osò qualche annetto fa scrivere «Vedi come storpiato è maometto, dinanzi a me se va piangendo Ali, fesso nel volto dal mento al ciuffetto». L'aveva capito qualche secolo fa. L'Italia è un paese che spalanca le porte a tutte le persone per bene, però per l'estremismo islamico a Firenze in Italia non c'è posto. «Tornate a casa vostra, state a casa vostra a usare il vostro Dio per imporre una legge che non è compatibile con i nostri valori e le nostre libertà». E quindi è per questo che siamo a Firenze, perché al di là del cazzaro ha dato in Italia qualcuno di più importante, fortunatamente, negli anni e nei secoli. I giornalisti, diceva qualcuno, io ringrazio chi sta facendo la diretta, ringrazio Sky, ringrazio Il Corriere, ringrazio Rai News 24, ringrazio Facebook, però dei giornalisti che ad esempio oggi parlano di tutto e di tutti, del grande fratello, di Nani e Ballerine, di Renzi e Mattarella, ma si dimentica ad esempio dei 19 morti di Nasseria, non sono dei giornalisti e io mi vergogno dei giornalisti che ci sono in Italia, che in 13 anni si dimenticano dei loro morti e dei loro feriti. Questa è una piazza che non dimentica, è una piazza orgogliosa. Chi pecora si fa, il lupo lo mangia. Questo è un anticipo di sfratto a Renzi, ma è un chiaro messaggio anche a chi vorrà essere nostro alleato, non mio alleato, vostro alleato. Io penso che per meritare la vostra fiducia, la fiducia delle decine di migliaia di persone che oggi sono arrivate a Firenze, debba dimostrare coraggio e idee chiare. Che è nostalgico degli inciuci, che è nostalgico del Nazareno, che è nostalgico della compagnia di Alfano e di Verdini, non sarà mai vostro alleato. Questo è l'impegno che da segretario della Lega mi prendo. Chi pensa di ritornare al passato non sarà mai vostro alleato, non potrà avere la vostra fiducia. Chi oggi è con il cuore a Lisbona, perché Lisbona? Perché a Lisbona c'è qualcuno che poco democraticamente, non eletto da nessuno, pensa di governare il mondo. Penso a organismi come il Bilderberg e la Trilaterale, come fa un Paese civile ad avere il presidente della RAI, che è membro di un organismo che gioca con i destini dei popoli e del mondo. Maggioni dimettiti e lascia la RAI in mano ai cittadini. Una RAI privatizzata è libera dai partiti e dai pennivendoli di regime. Altro che canonerai, altro che trilateral a Lisbona. Chi vorrà essere vostro alleato deve avere le idee chiare. Perché io voterò no il 4 dicembre, al di là di tutto quello che abbiamo sentito? Pensate al bugiardo patologico. Nell'ultimo mese ce l'ha con l'Europa. Colleghi sindaci, lo sentite, lo leggete sui giornali, Renzi si è accorto che l'Unione Europea è brutta e cattiva. L'Europa non ci aiuta sull'immigrazione, ma va là. L'Europa non ci fa spendere i soldi per i terremotati, ma va là. L'Europa non ci fa sistemare le scuole, ma no, non dirmelo. Questa Europa non ci piace. Il problema è che lui ha sempre votato come una pecora. Qualunque imposizione gli sia arrivata da Bruxelles. Che lo faccia il bugiardo ci sta. Noi in futuro non potremo allearci con nessuno che sostiene l'Unione Europea, della Merkel, dell'euro e delle banche. Su questo non c'è possibilità di equivoco alcuna. Se l'Unione Europea ci impedisce di spendere i soldi per i terremotati, non è la mia unione. Lo dico sottovoce. Ieri ho incontrato alcuni vostri colleghi. I sindaci dei paesi terremotati. Sono stato a Norcia, sono stato a Cascia, sono stato a Pescara del Trontro, al Quadra del Tronto, sono stato a Cumoli, sono stato ad Amatrice, dove non c'è nulla. 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 Io ringrazio di cuore, sono arrivati oggi quattro Pullman dall'Umbria e dalle Marche e io li amo, chi oggi ha lasciato la sua terra per essere qua in piazza a Firenze. però mi ha dato una lezione incredibile la giornata di ieri. Uno, il grande orgoglio, la grande dignità. Io nell'Umbria, nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo non ho trovato gente che chiede le lemosina, non ho trovato gente che aspetta lo Stato, ho trovato gente che ha perso l'azienda frutto di decenni sacrifici e l'aria aperta via internet in cantina o nel garage otto casa dormendo nella roulotte. Non ho trovato gente che dibatteva del sì o il no al referendum perché metà novembre in montagna fa freddo e io a Renzi lancio due messaggi, non due minacce ma due messaggi. Numero uno, non permetterti a nome dei cittadini italiani di mandare in quei comuni terremotati tende o container di scarto perché i posti in albergo spettano a qualcun altro. Non pensare di mandargli dei container senza il bagno perché costano troppo e se ha un bambino la vigilia di Natale scappa la pipì a mezzanotte, non fa pipì nel container ma si mette la giacca a vento e viene accompagnato dalla mamma o dal papà fuori perché lo Stato italiano non si può permettere di mandare nelle città terremotate dei container col bagno dentro smettila di spendere soldi per i clandestini e i soldi spendili per questa gente che è qua da 50 anni e ha più diritti rispetto a chi è arrivato ieri mattina. altrimenti non ti far più vedere in giro senza scorta e noi siamo disponibili a lavorare a patto che come non hai fatto per l'Emilia per chi ha perso tutto per il terremoto lo Stato italiano si impegni non a sospendere il pagamento delle tasse per tre o sei mesi ma per almeno tre anni quella gente non deve più pagare una lira di tasse quella gente lo Stato lo deve avere amico e non col bollettino della luce o dei contributi IVA i voti della Lega su questi in Parlamento ci sono domani mattina se Renzi porta un decreto per l'esenzione fiscale per le zone terremotate i voti della Lega ci sono occhi chiusi domani mattina se Renzi non lo fa gli morderemo le caviglie come cani da guardia fino a che non sarà costretto a farlo questo è l'impegno che mi sono preso con i vostri sindaci che sono in quelle zone terremotate io li ringrazio per la lezione di vita e di orgoglio che mi hanno dato e ringrazio le migliaia di volontari che ho incontrato da nord a sud poliziotti, carabinieri, misericordie, protezione civile e vigili del fuoco che sono il meglio di questo paese però il Presidente del Consiglio non può andare a farsi selfie con i vigili del fuoco battendogli una pacca sulla spalla dimenticandosi dei 15.000 vigili del fuoco precari che non hanno un futuro smettila di promettere e tira fuori i quattrini perché i quattrini ci sono e per questa gente ci devono essere il no per una riforma che metta in costituzione un mostro come l'Unione Europea la nuova Unione Sovietica l'organismo più antidemocratico che abbia visto luce negli ultimi decenni quanti danni ha fatto il patto di stabilità in casa vostra quanti soldi risparmiate avete chiusi nel cassetto che domani mattina potrebbero significare sistemare la scuola materna sistemare la palestra, sistemare la strada però i soldi che i vostri cittadini hanno risparmiato sono bloccati perché a Roma, a Bruxelles qualcuno ha deciso che quei soldi non si possono spendere il bugiardo lo diceva finché era sindaco cancellero il patto di stabilità è diventato abusivamente il Presidente del Consiglio e se ne è dimenticato degli impegni presi noi non lo faremo quando andiamo a vincere e presto, entro un anno andiamo a vincere i sindaci che hanno dei soldi nel cassetto li spendono fino all'ultimo centesimo per fare l'interesse dei loro cittadini e se l'Europa non lo permette chi se ne frega dell'Europa vengano paese per paese, comune per comune a darci le sanzioni a Renzi non piace l'Europa ma il PD il PD che partito vergognoso il PD il PD è il partito che ha votato la direttiva sulle banche che sta rovinando migliaia di cittadini il PD è il partito che in Europa ha votato la direttiva Bolkestein una direttiva infame che dall'anno prossimo rischia di lasciare in mezzo a una strada 300.000 lavoratori italiani il PD ha votato per regalare 15 miliardi di euro alla Turchia perché entrasse in Europa se ne stessero in Turchia che non ne sentiamo il bisogno il PD è quello che ci sta facendo arrivare l'olio della Tunisia i pomodori e le arance del Marocco il riso dalla Birmania il latte in polvere dall'Ucraina il vino senza uva e il cioccolato senza cacao noi vogliamo mangiare e bere quello che ci dà la nostra terra quindi è un no per difendere la nostra agricoltura il nostro latte il nostro cibo il nostro vino e se qualcuno abusivamente parla a nome degli agricoltori e degli allevatori se qualcuno che prende milioni di euro di stipendio all'anno dice di rappresentare gli agricoltori e gli allevatori votando sì questo qualcuno se ne va a casa con Renzi perché noi difendiamo la nostra agricoltura e i nostri agricoltori voteranno no per mandare a casa un governo ladro che sta svendendo il Made in Italy c'è qualcuno che non sta bene? aprite per favore aprite per favore lì davanti ci sono i ragazzi del 118 se posso chiedergli cortesemente qua davanti a noi fate un po' di spazio per favore aprite lasciate un po' di luce e un po' di aria fino al 4 dicembre e anche dopo il 4 dicembre non possiamo permettere ci perde per strada nessuno perché quelli là si inventano i voti anche dove non ci sono annuncio una cosa ai colleghi giornalisti se avete voglia di una notizia al di là di quello che stiamo raccontando già domani noi presenteremo denuncia nei confronti di Matteo Renzi perché comprarsi gli indirizzi di milioni di italiani residenti all'estero per andare a mandargli la letterina elettorale è un reato penale di cui dovrà rispondere davanti a qualche giudice e quindi vediamo se nei tribunali di tutta Italia c'è un giudice che ha voglia di far rispettare la legge i brogli elettorali prima del voto io ancora non li avevo conosciuti sappiatelo i comitati del no avevano chiesto per iscritto nomi e cognomi e indirizzi dei 4 milioni di italiani residenti all'estero per mandargli comunicazioni sul referendum a noi ci hanno risposto no c'è la privacy e poi noi vogliamo sapere questa privacy che fine ha fatto per non impedire che questi 4 milioni di indirizzi arrivassero sulla scrivania del bugiardo patologico o paga lui o paga il ministro dell'interno oppure vanno in galera tutti e due Renzi e Alfano e ce li togliamo di torno tutti e due e vediamo se c'è un giudice che ha voglia di far rispettare la legge perché per fessi non ci prendete a parte il fatto che comunque qual è la lezione degli Stati Uniti d'America chi c'era di là con la Clinton c'erano i banchieri gli affaristi i lobbisti i finanzieri i giornalisti tutti tutti i giornalisti vince la Clinton vince la Clinton c'erano Bruce Springsteen c'era la signorina Madonna che aveva fatto una promessa elettorale di alto contenuto politico ha risparmiato un po' di energia ha messo in un concesso che quell'energia non l'avesse spesa negli anni precedenti però la gente non la compri più con lecca lecca il palloncino e poi secondo me no lecca lecca era detto a caso non era voluto mi è venuta così ma poi qual è stata la scelta di campo determinante per la vittoria di Trump è stato il bugiardo che è andato da Obama che è provato che porti sfiga l'avete visto alle Olimpiadi l'avete visto con i nostri ciclisti l'avete visto con la nazionale di calcio l'avete visto con l'ungarno di Firenze ragazzi il 4 dicembre mandiamola a casa perché questo è pericoloso e quindi non c'è altra scelta il 4 dicembre mandiamola a casa la disoccupazione è risalita all'11,7% la pressione fiscale reale al 49% i nostri ragazzi migliori scappano all'estero per trovare un lavoro in tre anni di suo governo sono sbagliati e sono sbarcati mezzo milione non di profughi chiedo questo ai sindaci chiedo questo ai sindaci e a voi non sono profughi ci rubano anche il senso delle parole sono clandestini sono clandestini da rispedire a casa loro dal primo all'ultimo e questo c'è nel programma del presidente degli Stati Uniti d'America aveva promesso di semplificare non ha semplificato niente un impegno che mi prendo quando torniamo al governo è di dare una sforviciata a un po' di caste e quando penso alle caste penso anche agli inutili ordini professionali che complicano la vita dei liberi professionisti con la formazione obbligatoria che è una truffa che costa un sacco di soldi e che dà lavoro agli amici degli amici lasciate perdere lasciate che la gente lavori liberamente non possiamo più nutrire quello che Emilio chiamava dei parassiti su questo parlo per 30 secondi da segretario della Lega abbiamo letto tante fesserie sui giornali la Lega è Lega era Lega e continuerà per sempre a essere Lega con l'orgoglio di quello che abbiamo fatto delle battaglie vinte delle battaglie perse però o abbiamo e avete il dovere di guardare avanti di aprire non di togliere niente a nessuno ma di coinvolgere nella battaglia gente che per arrivare qua si è fatta dieci ore di pullman e li ringrazio con il cuore partendo da Reggio Calabria o prendendo l'aereo dalla Sardegna e dalla Sicilia perché è una battaglia che vinciamo insieme nel nome del federalismo non nel nome del centralismo io voto no perché se oggi Gianfranco Miglio fosse in questa piazza sarebbe a questo microfono a chiedervi di votare no perché questa è una riforma che riporta tutto nelle mani dello Stato centrale mentre l'Italia è bella perché è diversa è bella perché è diversa è diversa fra Brescia e Bergamo è diversa fra Pisa e Livorno è diversa fra Baria e Lecce noi non dobbiamo appiattire nel nome della marmellata unica del pensiero unico dell'uomo unico noi dobbiamo valorizzare queste diversità il nostro è un no che anticipa un sì di una riforma della Costituzione dove i cittadini scelgono scelgono chi li governa magari con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e mandiamo in soffitta il Presidente della Repubblica che non serve a un accidente lui e i prefetti in soffitta perché non servono a niente a nessuno cancelliamo queste eredità del centralismo come il Presidente della Repubblica e al Quirinale ci mettiamo un enorme asilo nido gratuito per i bimbi che non trovano posto negli asili nido del resto d'Italia questa è la nostra idea di una riforma quindi è un no che dal 5 dicembre diventa un sì prima un giornalista mi ha chiesto ma che fai ti candidi io sono una piccola pedina io sono uno fra i tanti però se il voto della Brexit ci insegna qualcosa se il voto americano ci insegna qualcosa non è più tempo di avere paura e se voi siete d'accordo con oggi da Firenze si parte con oggi da Firenze si parte per andare a vincere e io la faccia ce la metto non ho tempo da perdere non ho paura di niente di nessuno e quindi ringraziando chi è qua ringraziando i sindaci 300 sindaci che oggi hanno sacrificato il pomeriggio alla famiglia al lavoro ai figli fate arrivare l'applauso di Piazza Santa Croce ai tanti figli che questi papà e queste mamme ne vedono poco perché stanno lavorando per il loro futuro stanno lavorando per regalare a loro un futuro che non sia a tempo determinato a 3 euro all'ora nel centro commerciale aperto anche la domenica ma sia un futuro di lavoro di orgoglio di speranza di famiglia un paese che non fa figli è un paese morto non puoi fare il fertility day e far pagare gli asili nido un occhio della testa proposta di legge della Lega 2163 ferma la Camera da 3 anni asili nido gratis per tutti i bimbi che nascono in questo paese perché le mamme e i papà devono poter diventare mamme e papà perché un paese che non fa figli è un paese morto e questa è una piazza che dà speranza che guarda al futuro guardate che cielo oltre ai sondaggisti si erano comprati anche i meteorologi avevano detto che oggi a Firenze sarebbe diluviato guardate che cielo guardate che piazza mi piacerebbe che poteste essere qua perché uno spettacolo così è difficile a rivedere l'abbiamo visto a Milano l'abbiamo visto a Bologna oggi non è la fine di qualcosa ma è l'inizio di qualcosa il nostro obiettivo è mandare a casa il bugiardo patologico restituire diritto di voto ai cittadini se c'è qualcuno che vorrebbe essere nostro alleato che pensa il 5 dicembre dopo la vittoria del no di fare il nesimo governo tecnico stai a casa perché con noi non avrai più niente a che fare se vince il no si vota se vince il no scelgono gli italiani non Mattarella chi è Mattarella chi rappresenta Mattarella se vince il no scelgono i cittadini e i cittadini a volte scelgono come vogliono loro piccolissima parentesi le avete viste le trasmissioni la sera delle elezioni americane ma quanto abbiamo goduto ma quanto erano da funerale le facce dei giornalisti della Rai di Mediaset o di Sky che avevano lo spumante pronto perché aveva vinto quella bella finanziata dall'area via Saudita dalle banche d'affari da un filantropo come George Soros per cui questa è una piazza di luri di populisti e Oibo ha vinto quell'altro e sembrava a questi qua che gli fosse morto il gatto e ci avevano il sorriso e il sorriso si rimpiccioliva si rimpiccioliva si rimpiccioliva io al di là di tutto dico grazie ai cittadini americani per la lezione di democrazia che hanno dato al resto del mondo grazie e poi su questo palco c'è qualcuno che ha avuto la fortuna di incontrare Donald Trump che ha avuto la fortuna di incontrare Vladimir Putin io in questa piazza ho visto due bandiere che mi hanno riempito il cuore prima al di là delle splendide bandiere dei nostri popoli prima ho visto vicine due bandiere che significano pace perché questa è una piazza che vuole pace le bandiere degli Stati Uniti d'America e le bandiere della federazione russa perché noi vogliamo lasciare ai nostri figli un futuro di pace e non un futuro di guerra come la signora Clinton avrebbe sicuramente promesso al resto del mondo noi vogliamo vivere tranquilli siamo gente gente semplice gente tranquilla come ha detto una giornalista di Sky commentando la mattina dopo Trump l'hanno votato quelli con il titolo di studio più basso si vede che la notte hanno chiamato 60 milioni di persone chiedendogli che titolo di studio ha questo ci dice che il vero razzismo e la vera spocchia e la vera arroganza stanno a sinistra e quindi gliela lasciamo tutta quanta e poi ci ricorda però che spesso e volentieri chi ha le scarpe grosse ha il cervello fino perché io ricordo che chi ha avuto tre master ed è stato preside della Bocconi poi ha approvato la legge Fornero e quindi io preferisco un diplomato che dà lavoro a mille persone rispetto al plurilaureato che quell'azienda la fa chiudere e quelle mille persone le manda a casa loro e quindi la spocchia e l'arroganza la lasciamo a loro questo è voi stasera tornate a casa io torno a casa è uno splendido cielo è una splendida stellata grazie di cuore vi chiedo da qui al 4 dicembre di impegnarvi perché il bugiardo patologico sa che è in svantaggio e se le inventeranno in tutti i colori andranno a far votare quelli che siamo andati a salutare il 2 novembre portandogli dei fiori cercheranno di portare in vita chi in vita non c'è più ci hanno i grandi poteri forti piccolo inciso sono vicino ai colleghi lavoratori e giornalisti del sole 24 ore e di radio 24 sono lontanissimo da quei venduti di confindustria che hanno svenduto gli imprenditori italiani per un volgarissimo sì a chi li paga a suon di milioni fare gli imprenditori con i soldi dello Stato è troppo facile vai a lavorare boccia prima di parlare a nome dei veri imprenditori italiani e vedi di evitare che il tuo giornale accumuli decine di milioni di euro di debito che poi si vanno a ripagare i cittadini italiani questa è una bellissima piazza di proposta di entusiasmo io vi ringrazio il comune di Firenze per arrivare qua ci ha fatto pagare e vi ha fatto pagare migliaia di euro di tasse in più perché i pullman entrassero e vorrei sapere se queste migliaia di euro le chiede anche ai centri sociali quando vanno in giro per Firenze a fare casino ma noi quei soldi glieli abbiamo dati glieli abbiamo dati ugualmente e quindi torno a casa come sono tornato a casa ieri dalle zone terremotate torno a casa più forte con un'idea è il momento degli uomini coraggiosi di uomini e donne che hanno coraggio il coraggio ce l'abbiamo il programma ce l'abbiamo se vai a guardare il programma con cui Donald Trump ha vinto parla di flat tax al 15% a proposito là c'è un banchetto con gli ultimi libri che spiegano come è possibile la rivoluzione fiscale in Italia facendo pagare a famiglie e imprese il 15% e riportando in Italia le imprese che scappano all'estero e si può fare nel programma di Donald Trump e della Lega ci sono i dazi fino al 40% per bloccare l'invasione dei prodotti cinesi e per difendere il made in Italy e noi quella battaglia la combattiamo fino in fondo ed è una battaglia che si può portare a casa nel programma di Donald Trump e della Lega c'è la Glass Stigal c'è la separazione delle banche d'affari dalle banche che fanno semplicemente le banche nel programma di Donald Trump c'è l'espulsione di 2 milioni di immigrati clandestini entrati illegalmente negli Stati Uniti e questo lo faremo anche noi pensate sindaci questa è una roba che riguarda i sindaci nel programma di Donald Trump ci sono l'azzeramento dei finanziamenti ai comuni che non collaborano nell'individuazione nell'allontanamento degli immigrati clandestini cioè il futuro presidente degli Stati Uniti d'America ha messo nel suo programma che quei sindaci e quei comuni che non collaborano con lo Stato per individuare e allontanare gli immigrati clandestini non avranno finanziamenti statali e in Italia cosa succede? L'esatto contrario in Italia i bugiardi al governo danno milioni e milioni di euro ai sindaci che invece i clandestini li accolgono li coccolano e li mettono in albergo sono orgoglioso dei sindaci della Lega e dei sindaci che dicono no prima la nostra gente prima gli italiani dove c'è un sindaco della Lega dove c'è un sindaco sostenuto dalla Lega questa è la garanzia prima la nostra gente e quindi quelle che fino a settimana scorsa erano idee un po' da matti fino a settimana scorsa quando pensavo i vicessi la Clinton gli Stati Uniti erano la più grande democrazia del mondo da martedì sono un popolo di razzisti e di coglioni vedete che bello è un personaggetto come direbbe De Luca un personaggetto come il signor Napolitano Giorgio dice è stata una notizia sconvolgente se la notizia è sconvolgente per Napolitano è un'ottima notizia per tutti noi un signor Napolitano che nel 2006 in un'intervista a tutta pagina Repubblica quando votammo la nostra riforma della Costituzione che tagliava veramente i costi della politica e portava avanti l'idea del federalismo disse a tutta pagina io voto no perché io non posso accettare una riforma della Costituzione fatta a colpi di maggioranza ricoveratelo se fosse serio e coerente voterebbe no anche questa volta però se Napolitano votasse no sarei in difficoltà e quindi sono contento che Napolitano voti sì perché io voto no con ancora maggiore entusiasmo e gioia quindi questa è una piazza bella educata ringrazio le mamme e i papà che sono arrivati qua con i bambini nel passeggino ne ho visti tanti perché significa che ci tenete al futuro dei vostri figli è una piazza che vuole mandare a Casarenzi chi c'era ha vissuto una giornata importante chi ha preferito non esserci liberlo di scegliere con oggi si parte io da domani se siete d'accordo onori e oneri mi sento in dovere di portare in giro per l'Italia questa piazza queste idee questi sindaci questa proposta di futuro chi ci ama ci segua non è più tempo dei re tentenna non è più tempo di avere dubbi è il tempo della forza del coraggio e del futuro se voi ci siete io ci sono viva Firenze grazie a tutti e andiamo a vincere sì o no sì o no sì o no grazie sì o no Grazie.